Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico è recentemente intervenuto riguardo le pensioni più basse del 27 per cento per una particolare categoria di pensionati. Vediamo di chi si tratta in questo breve video. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Le disuguaglianze salariali si trasformano in disuguaglianze pensionistiche. Le pensioni delle donne risultano in media più basse del 27 per cento rispetto a quelle degli uomini. L'assegno medio è infatti rispettivamente di 1.352 euro contro i 1.863 euro mensili. È il dato rimarcato come dicevamo in apertura di video dal presidente dell'Inps Pasquale Tridico nella recente iniziativa al CNEL le donne per il lavoro e il lavoro per le donne in occasione della scorsa festa delle donne l'8 marzo. Dunque da questo dato ovvero dal 27 per cento più basso delle pensioni femminili si evince ancora una grande differenza di genere. Un dato allarmante nel 2022 dove non dovrebbero esserci questo tipo di differenze. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nei commenti di questo video. Bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.